... ... Ionk I due centrali sono qui di Ionk Manicone, il lancio di Ionk A cercare lo scatto Accelera Schillaci da Ionk Un gran tiratore, prova al destra ... ... ... ... ... ... ... sul turno di Ionk Di San Siro e qui rivediamo la conclusione di Ionk Che si coordina ben Cimouva accanto a lui Schillaci e Traamezzani più dietro Prova Traamezzani Tiro violentissimo che colpisce il palo Ionk Triangolo con Schillaci, possibilità di tiro –… ... al calcio hanno ripreso coraggio e determinazione ancora Shalimov con l'aiuto di Manicone poi Yonk che tenta di farsi luce al centro capo